Se tu lo vuoi cercare, con l'antrennino, potrai trovarlo di seconda mano. Potrai trovarlo di sé, seconda mano, per amico che te possa avvicino. Antite storza, forse, è esagerato. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Però la verità è che amo tanto Buonanotte agone